Un'importantissima vittoria, frutto di una prepotente reazione, quella con cui siamo rientrati dallo spogliatoio per arginare la vena realizzativa di Sassari, fino a quel momento praticamente infallibile. Abbiamo imposto il nostro desiderio di avere una serie più lunga a testimonianza di quanto volessimo esplorare più possibile questi 40 minuti per cercare di trovare una via nonostante l'assoluta emergenza per creare delle difficoltà ai nostri avversari. Su questa linea dobbiamo cercare di affrontare il prossimo impegno per quanto complesso possa essere, ma dovrà essere lo stesso spirito, la stessa combattività, la stessa unità a spingerci verso la prossima gara.